per interrogare questo database tipicamente si usa il linguaggio sql è un linguaggio standard che è stato sviluppato per appunto accedere e manipolare database sql sta per structured query language è uno standard definito dall'ansi nell'america national standard institute e successivamente dall'iso attorno alla fine degli anni degli anni 80 non è uno stand aperto nel senso che per poter accedere a questo standard è necessario acquistare appunto lo standard dal sistema dall'iso però ormai è uno standard talmente utilizzato e conosciuto che si possono trovare diversi tutorial su internet disponibili per accedere e per gestire lo standard i comandi sql sono delle stringhe con sintassi definite e facilmente leggibili dal programmatore per loro natura proprio i comandi sql sono di facile di facile interpretazione